Nuovo presidente per il Comitato Regionale per le Comunicazioni, si tratta del giornalista Sergio Nuvoli che assicura vigileremo sulla parità di spazio per le diverse forze politiche e aiuteremo i cittadini nelle controversie con le compagnie telefoniche. L'intervista è di Elena Laudante. Sergio Nuvoli, 51 anni, neopresidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni, qual è la sua priorità? L'urgenza è vigilare sul rispetto della par condicio durante questa campagna elettorale così sprint. Ho chiesto e chiedo ai colleghi e alle colleghe dell'informazione di dare spazio e parola a tutte le forze politiche impegnate in questa contesa elettorale. Conciliazione tra cittadini e compagnie telefoniche e tutela dei minori, che cosa vuol dire? La conciliazione tra cittadini e compagnie telefoniche è un servizio molto utile ma ancora poco conosciuto che contiamo di implementare attraverso l'accesso tramite il nostro sito o tramite un numero verde. Mentre invece sulla tutela dei minori il Corecom è un organismo di verifica e di controllo del rispetto delle norme a tutela dei minori da parte delle emittenti televisive. Qual è il prossimo passo? Proseguire nel cammino iniziato, in particolare con l'Università di Sassari con un master sulla media education e sullo stesso argomento anche promuovere un progetto che è già stato predisposto da una rete di scuole di tutta la Sardegna sul corretto utilizzo dei media. Dobbiamo pensare non soltanto alla televisione, alla radio o agli strumenti tradizionali ma soprattutto oggi l'urgenza è andare a vedere cosa succede nei social. Grazie.